... ... Queste ovviamente sono state attività organizzate tutte internamente e riorganizzate gli uffici, quelli che potevano qua, quelli che non potevano nelle altre sedi. Ovviamente strutture fino ai dettagli commerciali sono chiusi, abbiamo risaccato i servizi dell'hotel che abbiamo qua vicino, 4 stelle con 4 hotel, quindi la gente è più tranquilla, può mangiare tra lì, non è che non è più difficile, viaggia l'autorità, perché ci sono patriottici, tanto perché queste settimane fa c'erano Errani e Gabriele, qui è venuto l'Alema, qui si può riprendere, la situazione è tranquilla, consolidata, ci sono addirittura le macchinette, cose tante. Questo è il nostro responsabile della sicurezza, Paolo Di Chiara, vita alla mensa, qua c'è l'acqua gratis per tutti, perché ce ne è bisogno, orario mese a 12.30.14, e in fondo c'è la direzione generale, qua addirittura ci siamo organizzati. Poi tra l'altro è un ufficio vitale, perché questo è l'ufficio che fa le gare, gestisce qualche cosa, quindi è un ufficio vitale, perché come dicevo, tutto nella scheda che poi ti farò vedere, così puoi fare una premessa, vediamo anche quest'altro, e poi vi faccio vedere un altro, vedete io. Buongiorno. Io ho coordinato la comunicazione dell'Università di Verone per 5 anni. Vi ricordo qualche anno che avrei presentato, noi facciamo insieme un cammino per l'unico. Parte di pomeriggio era già qui a dire, fate questo, fate quello, giusto? Giusto. Sì, 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 sì. I tavoli della mesa, addirittura col bigliardino, perché sembrano dettagli, ma per esempio... Sì, sì, sì. Allora, altra è anche personale, no? Esigenze, piccoli, e non è una cosa. Questo è un colloquio dell'ufficio di Sfile, ha fatto un luogo di... Spera di venire l'ufficio di Sfile. Forse fai un uomo. Allora, dove deve stare le nuove uffici? Dove deve stare le nuove uffici? Perché poi, sistemati gli impiegati aveva i due uomini occupati per l'Assemblea. Per esempio, per solito, se non è un uomo, sono un uomo, sono un uomo, è 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 un uomo. Grazie. 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 Grazie.